Nei tre anni di vita pubblica Gesù compie diversi miracoli. Alcuni ammalati vengono guariti, altri no. Un ammalato che viene guarito è l'ebroso di cui pare il Vangelo di questa Domenica. Questo lebroso riconosce di essere ammalato, riconosce che Gesù Cristo ha il potere di guarirlo, se lo vuole, e chiede a Gesù di essere guarito. Se tu vuoi puoi guarirmi. Questa frase è molto chiara ed evidenza la fede che questo lebroso ha in Gesù. Cioè Gesù è uno che ha il potere di guarire la malattia, di guarire la lebra. E questo lebroso sa di essere ammalato. Per questo chiede a Gesù che lo guarisca. Ci sono delle malattie che però Gesù non può guarire. Una di queste malattie è la cecità. Gesù si rivolge ai farisei e dice loro Se voi riconosceste di essere ciechi, sareste guariti. Ma voi non potete guarire perché non riconoscete che siete ciechi, che non vedete. Quindi il messaggio che il Vangelo ci dà è molto chiaro. Tutti noi abbiamo una malattia, una grave malattia, che è il peccato. Questa malattia non ci permette di camminare, abbruttisce il nostro aspetto come a quello di un lebroso e ci rende ciechi di fronte ai fatti della vita. Non sappiamo come leggerli, come interpretarli e questo ci crea timore, angoscia, paura, ci rende irascibili, aggressivi. Come si fa a uscire da questa situazione? Bene, bisogna che noi ci rivolgiamo a uno che ha il potere di guarirci, che questo uno è Gesù Cristo. Ma prima di tutto dobbiamo accorgerci che siamo ciechi, che il nostro aspetto è repellente. Il peccato ci rende repellenti agli altri, ci rende brutti, gli altri non possono sostenere lo sguardo di fronte a noi proprio perché il peccato nostro ci rende brutti, ci rende irascibili, ci rende difficili da trattare. Allora abbiamo una via d'uscita, riconosciamo quello che siamo e confidiamo in colui che ha il potere di guarirci, che è Gesù.